Via! Via! Madonna Santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori! Fuori di qui! Passate dei pazzi ancora a rimanere! Fuori! Fuori! Madonna che sta venendo adesso ragazzi Patrice vieni qua, 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 qua Fuori, andiamo via E' suba la banca, e' suba la banca E' suba la banca, fatte sgomberato dalla zona della banca Ragazzi, sgomberato dalla zona della banca